giorni scorsi dove troverà il video di fedez dove appunto stonava la canzone sexy shop vi lascio comunque il video in descrizione questa ragazza ex concorrente di x factor nel 2017 afferma di essere stata eliminata proprio da fedez che all'epoca era un giudice lo ha pesantemente attaccato sul suo profilo tik tok di cui vi lascio immediatamente il video ma se non sei tra quelli che si è iscritti nel canale ma lo seguo regolarmente rimedia subito iscrivendoti e soprattutto mettendo un bel like se io penso che sono stata eliminata da x factor nel 2017 da questo qui che canta così cioè una vita in salita senti cosa dice te lo spiego io fedez cos'è la vita in salita è fare 120 date l'anno da due ore l'una due ore e mezza anche tre per 20 anni è svegliarsi al mattino e non avere la voce per riuscire a parlare con i tuoi cari è andare al bar ordinare un caffè e non capire che cazzo ti sta chiedendo la cameriera perché sei sordo perché quasi tutti i musicisti a 50 anni sono diventati sordi e non riuscire a arrivare a fine mese nonostante tu ci metta l'anima significa non andare alla recita di tua figlia perché quella sera lì hai una serata di cui non te ne frega un cazzo ma ti serve andare perché devi pagare devi comprare devi fare la spesa devi pagare le bollette significa non vedere tua figlia la sera della vigilia di natale perché quella non esserci a capodanno significa non esserci mai al mattino al mattino dormi perché vai a letto alle quattro del mattino alle cinque no oppure ti svegli ma sei uno zombie non è che hai le vacanze la tredicesima non guadagni abbastanza no perché noi siamo allo sbando nessuno ci tutela perché dedicare la vita alla musica non è scrivere testi di merda e andare sui palchi a cantare canzoni stonate per i ragazzini essere musicisti essere cantanti significa mettersi in gioco tutti i giorni dimostrare che sei all'altezza di riuscire a portare avanti una serata cantando e suonando bene però facendo divertire gli altri e devi far divertire gli altri anche quando magari hai perso il papà ad esempio the show must go on ci vuole rispetto sia per la musica che per le persone che ti stanno ascoltando e io sono stata eliminata da te perché tu hai detto che io ho un modo di cantare vecchio per te il modo di cantare moderno è essere stonati e non saper cantare è questo quindi fedez guarda io sarò vecchia avrò un modo di cantare vecchio però sempre ha avuto rispetto della musica perché ormai l'unica l'unico modo per uscire per un artista è quello di andare a un talent non c'è un altro modo ok lui ha mandato via gente che sapeva cantare che ha fatto questo magari anche tutta la vita o che stava solo iniziando ma aveva le doti è diventato famoso sulle spalle degli altri fatelo dire fedez tu non hai nessun tipo di dote musicale zero zero oggi sono qua io a giudicare te io io che posso perché io faccio questo mestiere da 25 anni e te lo posso dire ho fatto palchi anche grossi come i tuoi ho fatto tutto nella vita dal cabaret alla musica dal vivo al piano bar al liscio all'hard rock al heavy metal alla dance ho fatto le arene ma non mi sono mai permessa di salire sul palco e non avere neanche la capacità di essere intonata cioè se io non sto bene quella sera sul palco non ci salgo il problema è che tu stai così anche quando stai bene cioè tu non sai cantare è questo il problema e ti esponi comunque come se fossi emine come se fossi pavarotti eppure tu eri lì e ti sei permesso di giudicare e di tarpare le ali a persone che avevano un futuro e non parlo solo per me e il karma ti ridarà quello che tu gli hai dato idem per me fedez vedremo vedremo probabilmente io ormai sono vecchia magari non ho più nessuna possibilità non lo so però io questa cosa te la dovevo dire perché ce l'ho lì dal 2017 io questa cosa te la dovevo dire non poteva passare così in sordina le persone devono sapere